Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video del mio... oddio c'è la colla sulla cazzo di Cooper benvenuti nel nuovo video del mio compleanno per festeggiare vado a fare una bella food challenge anche perchè appena finito di fare palestra sto ucciso, ho una fame incredibile ma prima, come ogni video di questo vlogmas vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like al video, commentare, fate tutto quello che volete ma non è questo perchè devo andare ad aprire la casellina Alexa accendi luci libreria e andiamo a vedere cosa ci riserva il mio compleanno, la penultima qui nell'angolino un altro pezzo della locomotiva la faccio vedere già montata perchè la food challenge sarà lunga ecco il pezzo della locomotiva ragazzi ecosostenibile, dato che questo sembra un alberello con qualche fiore questa si attacca qua, così, non la vedete? così se la porta a spasso direi di andare con la sigla e intanto mi vado a preparare una cosa calda per accompagnare questa food challenge sigla sprecati benvenuti in questo giorno speciale per me perchè è il mio compleanno tanti auguri a me e oggi andiamo ad affrontare una challenge food porniana anche se è molto poco porn, però è molto food allora, prima di ogni cosa ringrazio mia madre che mi ha fatto queste Maddalen per questa challenge e sono 40, anzi 39, devo andare a prendere subito un'altra ecco la quarantesima e andrò a provare a mangiare tutte e 40 le dorcetti queste Maddalen e nel minor tempo possibile andiamo ad attivare andiamo ad attivare il timer faremo partire appena i provi partiamo e vediamo se si vede si si vede tutto poi abbiamo una tazza di tè con la mia tazza personalizzata un pacco di proteine dove è schizzata tutto da fuori come al solito direi di partire intanto qua c'è l'Inter perchè oggi è mercoledì sera quindi sto festeggiando il compleanno un giorno prima però direi di partire timer partito e andiamo con la prima non so se partire subito con l'inzupparle perchè secondo me dozzò in un poco l'inzuppandola è molto meglio anzi faccio un primo piano sei meno di un minuto però un po' di tè facciamolo non so andare niente la paura in questo momento è quella di finire il tè anche perchè sta finendo già velocemente e poi dovrei andare a fare un attimo un altro ma la cosa non mi va un po' di proteine al mango per smorzare e la chiediamo con un tappo qua non so se in 5 minuti ce la faccio però secondo me i 40 sono un po' poche direi di ringraziare ancora una volta lo sponsor di oggi che è mia mamma ok qua nessuno ci paga ma penso di farcela 5 minuti no ma 6 beh ragazzi 5 minuti e 48 40 Madeleine finita direi che ho iniziato alla grande questo compleanno perchè buona mamma sa fare i dolci una cosa che veramente non possiamo dire niente anzi i due sprecati i più sprecati del canale possono confermare ovvero Gloria Francesco perchè hanno provato anche il pandoro di mia madre fatto in casa beh ragazzi che dire io mo tengo fame però mi si è aperto lo stomaco quindi da mangiare qualcosa vado a spezzare subito tutto con il salato perchè veramente c'è una fame incredibile e ci vediamo domani con l'ultimo video del vlog e dalla settimana prossima ritorniamo normali perchè sono un po' stanco ogni giorno di girare di tale girare di tale cioè mi sono distrutto ed è una cosa che penso che non farò più a meno che non vi piacciono così tanto che vi iscrivete al canale mettete like al video e quindi vedo che vi piacciono e se l'anno prossimo siamo più di 1000 iscritti lo potrei rifare lo potrei rifare solo per voi beh ragazzi direi che va bene così con questo video grazie di aver condiviso anche questo giorno con noi ci vediamo domani con l'ultimo video ciao ragazzi